Siamo all'inizio del ventunesimo secolo. Il mondo intero è sconvolto dai cambiamenti climatici. Alla fine, l'uomo ha scelto la violenza verso se stesso e verso la natura. Si dice però che esiste un luogo dove chi ha ancora la forza di vivere può trovare la felicità. Un'oasi nel deserto, una terra promessa. Il paradiso non è ancora perduto e dove ora c'è solo polvere ed esolazione, nascerà una foresta colma di vita e libertà. Grazie.